Favorire la competitività, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e digitale delle aziende nelle aree industriali di Matera e provincia. Con queste finalità è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Consorzio Industriale di Matera e l'Università LUM. L'intesa prevede la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione in tutti i settori di interesse comune. Credo che sia sempre importante pensare a uno sviluppo del territorio che parte oggi integrante da terza missione. Le università hanno comunque un obiettivo di crescita del proprio territorio, perché questo significa crescita del benessere per tutti, però lo fanno attraverso non solo l'attività didattica e quindi di costruzione della cultura economica, imprenditoriale e in generale professionale, ma anche attraverso attività di ricerca e di accompagnamento di quelle che sono le imprese verso percorsi di crescita. Io credo che questo sia un po' l'obiettivo con cui possiamo iniziare a pensare il nostro piano industriale. Il piano industriale significa anche obiettivi. L'obiettivo può essere la crescita del lavoro. Le nostre aziende hanno necessità di avere un posto al sole perché questo territorio è vocato all'industrializzazione e dobbiamo toglierci dalla mente che abbiamo un retaggio culturale che ci porta soltanto verso l'agricoltura. Questo è assolutamente sbagliato. Matera e provincia ha necessità di avere la possibilità di poter dire la sua su tutti i campi e quello industriale è sicuramente uno dei campi più importanti. Abbiamo due grandi zone industriali in ampliamento, complessivamente 30 milioni di euro di investimenti e di fondi PNRR. Abbiamo dei progetti di mega player su queste due zone che attualmente riserviamo e non sveliamo, tali per cui ci rendono orgogliosi di essere di questo territorio, di essere materani e di essere della locale. Qual è la capacità di riuscire a creare valore? Sono gli imprenditori che creano valore. Noi dobbiamo comunque imparare da loro ma aiutarli anche a trovare la loro strada. Grazie a voi.